notte fonda sto facendo questo video che è notte fonda e finita così doveva venire così si pensa si rimugina sugli errori su un rammarico è stata una finale non bellissima non tanto spettacolare e purtroppo la coppa sono portata a casa loro 1 a 0 che è amarissimo marissimo occasioni sprecate Manchester City è andato un po di fortuna tra l'altro con questo gol palle e mezzo deviazione tiro poi invece l'inter sembrava l'inter di due mesi fa questa finale che ma dove sono spaccare il mondo più o meno abbiamo iniziato come ho fatto con intra fiorentina di coppa italia quindi si è stato un po molli che a te perché poi alla fine ci sta in una finale poi alla fine niente da niente da dire neanche da inzai di inzaghi perché inzaghi per i giocatori lì e lì aveva l'unica cosa dovuto un po un po tenere se gioco ti entra così che non ti combina nulla poco da fare c'è tanto rammarico sui gol sbagliati quello davanti di lautaro davanti a portiere poteva forse passare a lukaku lì se ma chi lo sa attraverso di di marco l'occasione un'altra l'occasione di di marco che è ritirata addosso a lukaku l'altra di lukaku che quell'altro vedete sono appeso col ginocchio occasioni all'ultimo minuto insomma occasioni abbiamo avuto tantissime tantissime mi piace un sacco mi piace un sacco che dobbiamo ancora questa foto qua 2010 dobbiamo ancora ancora mettercela lì non possiamo aggiornarla non possiamo aggiornarla non possiamo neanche mo ci becchiamo gli sfottò ma ci sta non è che voglio dire e c'è tanto dispiace perché non ti capita mai più una cosa del genere io ad agosto in stagione di vedendo già il sorteggio dicembre ho detto ma qua se andiamo a europa lì che già tanto perdiamo col bayern monaco 2 a 0 ma invece ma da cacchio vogliamo andare poi poi comunque varie partite giocate bene con barcellona il percorso fatto il porto benfica diciamo dei sorteggi validi molto abbordabili vinci i derby tutte e due annate ritorno in semifinale arrivi col magister city che sembrava dovesse tutti dicevano 5 a 0 6 a 0 già tanti non sentivo che dovevano scassarci hanno sofferto hanno sofferto e l'unica nota positiva se poi vogliono trovare note positive che abbiamo perso attestate ma quello poco da dire poi se dobbiamo parlare di arbitraggio e poi non è che voglio lamentarmi ma è stato proprio diretto bene questa finale non è stato diretto bene questa finale però d'altro canto tanti giocatori non hanno giocato al cento per cento gecko c'è la nobu non mi è piaciuto poi c'è stato un momento di nervosismo nervosismo anche in campo l'autaro che si è nervosito con non so chi chi era insomma e quando tra le squadre c'è nervosismo male male manager city alla fine ha avuto quelle occasioni con con holand all'inizio al primo tempo poi fode nel secondo tempo poco altro poco altro cioè tante azioni e gli abbiamo anche regalate no i passaggi sbagliati davanti all'area e anche loro hanno sbagliato e non abbia sfruttato loro errori questa è stata la partita e poi possiamo anche pensare che comunque se proprio si vuole credere ma si parla di multiverso in un multiverso in un altro universo questa partita qua potevamo anche vincere la giocassimo un'altra volta magari la potevamo uguale però magari potevano arrivare anche sformentari e come dicevo prima poco fa questa inter è stata quella di due mesi fa cioè finita al stesso modo inter monza inter fiorentina allo stesso modo non meritavi di perdere potevi arrivare al pareggio poi magari non sformentare ma ne perdavamo lo stesso però perderla così fa fa male le tre italiane roma fiorentina inter non si portano a casa nulla goderanno di brutto i giuventini ma giusto così nel senso noi abbiamo sempre gufato loro hanno gufato noi e gli è andata bene allora ora è brutto è brutto passassimo un'estate piena di piena di così a dire porca miseria ci avevamo tanto così tanto così ci avevamo tanto così tanto così per coronare un sogno che sembrava impossibile vedendolo fino a come è stata era tutto possibile possibile quindi non si può dire nulla c'è andata male c'è andata male perché comunque al di là l'approccio della partita iniziale è stato sbagliato però poi dopo abbiamo avuto tante occasioni per andare in vantaggio e se quella palla di testa di lukaku fossero andata sotto le gambe anziché sul ginocchio di ederson paremmo di un'altra partita se nel rimpallo il difensore l'avesse deviata in porta anziché fuori avesse fatto otto gol sarebbe stata lì un'altra partita con i secoli ma non si fa nulla però doveva andare così doveva andare così devo accettare la sconfitta e basta andrà avanti prossimo anno prossima stagione sarà un altro punto interrogativo insomma zancro dovrebbe fare grosse vendite adesso dovrebbe vendere a destra sinistra un guadagno c'è stato anche arrivando in finale quindi vediamo un po cosa succederà sicuramente si rivoluzionara un po la squadra andrà via un po di gente tagliardini scrignar dovrà rinnovato quindi acerbi comunque inizia anche lui a andare verso il cavo normale bisogna rinnovarsi un po centrale di competere ecco competere è la cosa che che volevamo non abbiamo avuto modo di competere molto in serie a abbiamo vinto due coppe italiane negli ultimi due anni c'è tanto rammarico per le finali persa anche quella l'europa league di tre anni fa non ci siamo affatto dimenticata tante cose che anche scudetto dell'anno scorso e tante cose che alla fine uno pensa potevi vincerle in altri universi l'avresti vinta in questo universo non l'hai vinta e niente ragazzi è intanto da aggiungere tanto adesso arrivano tanti giuventini che commentano qua sotto e cazzo me ne prego tanto alla fine farò tante visualizzazioni va bene così questa è una visuale inedita sempre chiuso nelle ripostiglie adesso sto ampiando un po gli spazi ho invitato un po di un po di gente mio padre mio cognato due miei amici di vecchia data mia scollega che comunque anche mio grande amico quindi tutti interisti ho simpatizzato interisti quindi i gobbi qua non ne sono entrati e speravo che la gufaggine non entrando in casa non avvenisse nel peggiore dei modi invece è andata così però comunque dalla fine si è passata una bella serata peccato il finale peccato il finale è stato bello quanto meno almeno supplementari e poi e poi si vedeva il calcio come vi dico sempre è fatto di episodi è fatto di di fortune sfortune e in questa partita qua l'inter non ha avuto tanta fortuna non ha avuto episodi favorevoli il ctc ha vinto la coppa questo questo è quanto ragazzi questo è quanto quindi ragazzi io questo è l'ultimo video stagionale ragazzi meno che quando riguarda l'inter poi c'è la nation's league settimana prossima che non finisce mai non so se commenterò la partita finale di oggi ormai sarà stanotte la notte inoltrata di italia under 20 contro l'ungheria e uruguay anche lì è stato fatto un bel cammino poi nation's league con l'italia ci sono anche i nostri i nostri cinque titolari darmian acerbi bastoni barella però di marco però senza a mani vuota diciamo a mani vuoti ci vabbè però se sei arrivato lì è però quando arrivi di contanzare la coppa quindi è sempre quello il discorso ragazzi io vi saluto ringrazio tutti sempre forse internet in questi momenti in cui bisogna di fare la propria squadra del cuore anche queste sconfitte ci si rialzerà prossimo anno nuove sfide so bisogno anch'io di riposo perché veramente ragazzi da agosto fino a giugno mondiale di mezzo eccetera è lunga è lunga ragazzi ancora buona domenica sempre forse inter chiedevo al canale per chi ancora non l'ha fatto e dove andare così venire a cittare le sconfitte quando arrivano è brutto si va avanti si va avanti forse inter a presto ciao buona domenica